gentili telespettatori buona giornata sondaggio noto per la trasmissione porta a porta di bruno vespa sulla rai la domanda è stata a questa il va e all'italia lo stato dovrebbe entrare nelle aziende il 48 per cento degli intervistati ha detto no lo stato non dovrebbe entrare né in il va né in italia è per il sì il 31 per cento senza opinione il 21 per cento il sondaggio è stato realizzato il 12 dicembre del 2019 io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare siamo anche su facebook tele italia notizie dove trovate tutti gli stessi video di youtube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet grazie per avermi ascoltato e vi auguro buona giornata arrivederci